Buongiorno, mi trovo alla stazione di Mestre e sto aspettando il treno per Milano. Sono diretto in Brasile per una vacanzina e c'è solo un piccolo problema. Volare dall'Italia al Brasile per turismo è vietato. Ho avuto l'attachicardia per tutto il viaggio in treno, però sono a Malpincia, sono al gate e nessuno mi ha chiesto niente. Nessuno mi ha chiesto niente. Incredibile, hanno fatto un casino in aeroporto, però sono in aereo, sono riuscito con un boarding all'ultimissimo minuto. Beh, l'ho fatta franca ragazzi. Ok, finalmente sono sblocato a San Paolo. C'è Isadora che mi aspetta di là del varco di sicurezza. Nel 2020 l'ho conosciuta e ho prenotato un volo tipo per aprile e maggio. Ovviamente non è andata benissimo. Insomma, sono passati due anni. Sono sicuramente molto emozionato. Come on, come on, come on. No, l'ho conosciuta. Let's do in. Spagna! Sì, stai facendo il mio uomo! Onde siamo? Siamo a Trianon, a Parque Trianon, in Apriada Paulista Onde è questo? Sì, siamo in San Paolo, Brasil Siamo al punto alto di questa città, chiamata Espegão da Paulista È una serie di città che abbiamo costruito una grande avenue sulle Ora stiamo a Parque Trianon, che è in mezzo dell'Avenida Paulista right in fronte di Maspi, il museo molto famoso da Lina Bobardi Sì, questo è tutto Cosa sta succedendo oggi? Sì, nel settembre Paolista è iniziato con il trattamento di cari e le persone vanno solo, ci sono molte delle bandi Abbiamo visto molte dei bambini di bambini Ok, città di città, città di città Come appesanato Sì, città di città Molte persone riuscate, riuscate, camminate Scatate È molto vivo E questa parte della città è una delle più belle Moltezza 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 È un esforzo per mantenere la immagine di postcard La immagine di Paolista Occhi 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 oschi Occhi 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 Sì Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho sbarcato a Rio, 6 ore di corriera con una signora che tirava su il catarro in continuo. Mi hanno detto tutti di stare attentissimo, però è un fascino sta città. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questa è uno spettacolo, cioè, volevo dire, stiamo scherzando, ma stiamo scherzando. Comunque noi ci siamo, con il barchino della terra. Persino io sono riuscito a trovarmi una spiaggia personale e ho comprato così. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, guardate cosa ho trovato. E ancora? Ma che è? Per me che sono un ragazzo di campagna è sempre un'esperienza. a prendere la metro, poi magari sei in un posto, ah, ma triste, come il quartiere finanziario, il primo, e poi arrivare, sbarcare, uscire dal buco e trovarsi in un posto completamente diverso. Qua è tutto verde, c'è una bella piazza, c'è il mercato, c'è da mangiare, c'è vita, ci sono gli alberi con le palle. Ho mai visto? Non so cosa siano, questi alberi hanno le palle. Abri il cuore di macaco. Abri il cuore di macaco. Abri il cuore di macaco. Ok. Furila. Ciao. Piove ma sono solo due gocce. Andiamola. Mi sono divertito un sacco a visitare San Paolo e Rio, però insomma non sono proprio un animale da città e adesso penso sia ora di andare a visitare un po' di naturezza brasilera. Bellezza. E quindi prendiamo la macchina e andiamo verso Paracì. Andiamo a esplorare un po' le campagne, a vedere un parco naturale e a rilassarci in spiagge paradisie. Ma no, come perdersi nel... No, no, dai, ma che... Ma no, ma che... No, 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 no. No, 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 no...